L'ambiente domestico come una trappola da oasi in cui trovare un riparo sicuro al luogo privilegiato per consumare inaudite violenze contro le donne al riparo da sguardi indiscreti. Il femminicidio continua a rappresentare una piaga per il paese, insinuata in ogni contesto senza differenze geografiche né di ceto sociale. La famiglia uccide più dalla mafia nel nostro paese, soprattutto nella sua fase patologica, per cui ogni due giorni una donna viene assassinata. Abbiamo abrogato dal codice penale il delitto d'onore, ma non l'abbiamo abrogato dalla testa di molti maschi. Se la donna dice basta, se la donna prende una decisione, vuole separarsi o divorziare, in molti casi rischia la pelle e la perde. Il fenomeno è stato analizzato nel corso del convegno organizzato dall'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, ospitato nella Biblioteca dell'Ordine Forense del Tribunale di Cosenza, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il procuratore aggiunto Marisa Manzini e la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone. C'è una maggiore consapevolezza della violenza di genere e dello stalking, ma non basta. Le statistiche parlano chiaro, quattro donne su dieci picchiate dal marito o dal compagno non trovano la forza di denunciare. Il sommerso è ancora imponente, il sommerso è collegato poi alla particolarità dei reati di cui discutiamo, che sono reati che colpiscono l'intimo. C'è poi l'aspetto più delicato, quello dei minori, contesi nella migliore delle ipotesi, quando non addirittura vittime degli stessi genitori. Anche quando sopravvivono, il fatto di sapere che un padre sta in galera e la mamma è morta, è la fine per questi ragazzi. Salvatore Bruno per la CNews24